Ciao, il mio nome è Toni Bradi, io sono italiano, provino in Spagna da 25 anni, sono venuto dalla Spagna apposta per assistere a questo corso e mi occupo, io normalmente do conferenze, corsi e assisto a persone in momenti conflittivi della loro vita attraverso un metodo del perdono, perciò praticamente la maggior parte del tempo e la mia occupazione è questa qua. Allora, io mi sono reso conto attraverso il mio lavoro che ci sono dei momenti dove ho bisogno di stare in coerenza, di stare equilibrato, di avere intuizione per poter appoggiare e accompagnare queste persone nei momenti di conflitti. Perciò mi sono incuriosito per quello che proponeva l'RQI e mi sono reso conto, già dalle prime pratiche che ho fatto qualche mese fa, che effettivamente aveva una certa efficacia, mi manteneva, mi proteggeva innanzitutto, perché io sono costantemente con persone che hanno veramente problemi molto importanti, per esempio questo senso qui ho bisogno di qualcosa che mi riequilibrasse velocemente e questo metodo mi ha dato subito dall'inizio già la sensazione che mi aiutava. Però poi quando ho fatto il Master è dove veramente ho scoperto la profondità. Uno, perché ti aiuta a centrare il problema e a mettere il focus su te stesso. Perciò con questo metodo e con il Master, soprattutto con il Master, ho visto che quelle prime pratiche che avevo imparato con i primi corsi sono diventate molto più efficaci, si sono espanse e oltretutto ti danno la possibilità di aprirle in tutte le direzioni. Per questo motivo io non solo ho trovato dei corsi benefici, però lo consiglio, già lo sto consigliando a molti amici miei e soprattutto a quelli che possono magari essere dei terapeuti che hanno la necessità in qualche maniera di mantenersi sempre in equilibrio, di mantenersi in coerenza. Io lo consiglio perché è uno strumento veramente molto efficace. Grazie. 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 Grazie.